Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Oggi abbiamo un grande invitato, Rossella, che ha accettato dopo che l'ho pagata a 100 euro a fare video con noi. E' vero? Tu non sei 100 euro. Sì, vabbè. Matteo dice che io non ho 100 euro. Oggi assaggieremo dolci, snack dal Giappone. Ho preso questo Wow Box Kawaii and Beauty. Noi, non c'è niente. Wow Box.gp, Giappone. Ho già aperto i dolcetti e i snack così è tutto più facile e iniziamo. Poi abbiamo queste patatine che hanno aspetto molto. Non stavamo a pubblicare niente. E niente, sono patate normali. Ma stiamo non lo assaggiamo perché ha tolto dei dentini e gli fa male. Però una leccata la puoi dare. Sono buoni. No, fa schifo. E' dolce, lei. Patate dolci e crema di formale. Ma perché tu sai il giapponese? Ho scritto in inglese. Patate dolci e crema di formaggio. Patate dolci e crema di formaggio. E Matteo, mi fa schifo il formaggio. E' moale, leccato il formaggio. E' spurti. Qua invece abbiamo dei grissini, si chiamano pocket. Io sto a sudare come un maiale. Ma mi sono sempre chiesta perché diciamo che sudiamo come un maiale. Ma mi sono sempre chiesta perché diciamo che sudiamo come un maiale. Il maiale suda. 136 calorie. Questo è il giapponese. Tutti i secchi vengono per questo. Qui si fa così. Ti, leccano. Come mi fanno la tua fragola? Mi piacciono. Mi piacciono. Mi piacciono. E' un po' e' l'amigadoro cioccolato. Ha somigliato al sciroppo? Qua c'è questo panda che dal culo escono le caramelle, ma sta cascatuto. Buon e mangeremo così. L'abbiamo aperta e abbiamo fatto l'autopsia. Questa è salata di medicinale. No, non fico. Ti piace? No. Sta di medicinale. Poi abbiamo una specie di patatini, sembrano. Al gusto pomodoro, la che ci am provato. Carino, carino. E poi un peperone. Pure il peperone. Ma voi dormite il peperonino. Quello verde di che ha? Salata di spinaccio. Vi volevo dire, guarda, ci vuono uno calorie. Oh, mangiamo roba giapponese. Questa mangierò aria. Buono. Buono. Qua abbiamo una bustina con delle caramelle tipo quelle morbide. Come si chiamano queste? Quelle morbide. Io mi manco i baci. I baci per Regina. Una volta la frutta, quelle morbide, come si chiamano queste? Alibò. Chi vuole alibò? Alibò. 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 Buone. Buone. Bello. E qui l'ultima bustina Sono tipo gomme Caravelle Infatti io ci guarda Fa il guardone L'arancia Ma è dura Le gomme di quando ero io piccola Le turbo E basta Sono finite A me è piaciuto Abbastanza questo guobbo E non si chiudeva Credo che lo riprenderemo Stai coprendo tu Grazie Mi è piaciuto raga Cioè ti è piaciuto Rossello? Perché Matteo Ha solo leccato Spero che il video vi sia piaciuto Non dimenticate di lasciare like Soprattutto per il nostro invitato speciale La sua altezza principessa Rossella Grazie Ci vediamo al prossimo video Like Ciao 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 Ciao